Buongiorno a tutti, sono Paola Fendoni, ipnologa e scrittrice del libro, andate a ritorno e se trovi interessante il mio canale youtube iscriviti cliccando sulla campanella in basso. Come fare per non affondare quando il narcisista ti svaluta? La svalutazione del narcisista arriva subito dopo il lab bombing, da questo momento in poi tutto ciò che fa la vittima viene percepito come una sorta di fastidio da parte del narcisista. Qui la vittima viene trattata come se non valesse nulla e nella maggior parte dei casi messa in disparte. Ma perché succede ciò? Quali sono i fattori scatenanti? In questo video ti spiegherò il perché. Inizialmente sembra tutto perfetto, il narcisista tratta la sua vittima come se fosse l'unica persona della sua vita. Ma poi qualcosa cambia, il tutto succede nella maniera più rapida possibile. Spesso la vittima non ha il tempo di rendersi conto di quanto tutto ciò si è cambiato da un momento all'altro ed ecco i motivi del perché ti svaluta. Ha già un'altra fonte di energia, nuovo sangue succulento, attenzioni nuove, sfide nuove. Quando la vittima scopre che il suo partner sta iniziando a triangolare è uno dei momenti più dolorosi che la vittima sente dentro di sé, la sensazione che ha è quella di cadere nel vuoto. Fa molto male rendersi conto che da un momento all'altro quella persona non corrisponda ai nostri sentimenti e tradisce. Per avere maggior controllo lui vuole sempre avere il pieno controllo di tutto e se la vittima cerca di prendersi i suoi spazi o peggio ancora cerca di contraddirlo si scatena in lui un senso di rabbia così forte che comincia a svalutare la vittima. Per punire se la vittima pone dei paletti o si esprime nella maniera sbagliata il narcisista comincia a punire la sua vittima ignorandola. Si è annoiato anche se la vittima in questione è la migliore del mondo il narcisista si annoia. Ormai la vittima è nella sua trappola e per lui è calma piatta e a questo punto arriva il momento di ribaltare la situazione. Durante la svalutazione il narcisista prova un grandissimo senso di soddisfazione. Si sente forte e potente perché le sue prede entrano in uno stato di confusione senza pari. Iniziano a chiedersi come e dove hanno sbagliato. In realtà non hanno fatto alcun tipo di errore se non innamorarsi della persona sbagliata. Più il narcisista viene considerato e più ponerà la vittima con tutte le tattiche manipolative che conosce. Infatti il classico silenzio punitivo arriverà proprio in questa fase e forzerà la mano per mettere alla prova la vittima per capire quanto in grado di reggere. Una delle strategie che usa il narcisista per svalutarti è quella di rendersi irreperibile e allontanarsi dalla vittima. Le tattiche più utilizzate sono le seguenti. Non risponde al telefono trasmettendo nella vittima il senso di colpa. Non si farà trovare agli appuntamenti. La vittima si organizza per l'incontro e lui non si presenta. Quindi arrivano le bugie, gli imprevisti e i cataclismi. Ma tutto ciò è solo un modo per poter portare la vittima all'esasperazione. Comincia a raccontare una raffica di bugie. Sembra che ad un certo punto qualcosa cambi drasticamente. Ogni bugia è un mezzo per dileguarsi. Comincia a sminuire la vittima quando la vittima inizia ad avere i primi dubbi e i primi sintomi di gelosia con frasi del tipo sei troppo gelosa oppure devi lasciarmi i miei spazi. Ma riesce sempre a far intendere che nella sua vita c'è un'altra persona perché adora sentirsi venerato e la gelosia lo fa sentire desiderato. Ma come reagire alla svalutazione del narcisista? La chiave è non dargli nutrimento, non dargli attenzioni, non farlo sentire desiderato. E la cosa peggiore è quando la vittima lo ignora per una settimana. Lui dopo una settimana riapparirà e questo è anche definito come il cucù del narcisista. In pratica vuole vedere se ha ancora potere sulla vittima e se la vittima dopo una settimana si mostrerà disponibile. A questo punto sparirà di nuovo. Ma l'arma più potente è lasciare un narcisista durante la svalutazione perché lui vuole che lo desideri sia quando c'è che quando non c'è. E a questo punto se la vittima lo lascia come potrebbe reagire? Molto ma molto male. Qui dipende dal tipo di carattere che possiede e anche se è un overt o un covert. Cercherà il riaggancio, farà dei passi indietro per migliorare la fase di attaccamento della vittima e solo dopo riproverà con la svalutazione. Proverà ad usare tattico come quelle dei sensi di colpa o ancora atteggiamenti vittimistici. È proprio qui che la vittima non deve arrendersi e continuare a resistere. È un momento molto doloroso per chiunque lo mette in atto. Nessuno che sia bilanciato vuole fare del mare alla persona che ama. Però è l'unico modo per salvarsi da questo genere di avusi. L'unico modo per salvarsi è il no contact. L'unico modo per riprendere in mano la propria vita è il no contact. Il no contact ha vita. Un narcisista non merita il nostro perdono. Non merita il nostro ritorno. Non merita nulla. Se avete bisogno del mio aiuto perché da soli è impossibile uscire da una manipolazione. È impossibile tenere fede a quello che è un no contact. Perché siete fragili. Perché siete deboli. E perché ancora provate un sentimento verso il narcisista. Contattatemi. Contattatemi alla mia email paolafendi.chiocciolagmail.com Un bacio a tutti e al prossimo video.